Musica Ennesimo atto dell'inchiesta sui falsi invali di dopo Chiaia, la procura accende i riflettori ancora sul quartiere Poggio Reale. Ordinanze di custodia sono state eseguite dai carabinieri nei confronti di 45 indagati. Tra gli arrestati anche il dipendente di una ASL, regista della truffa, indagati anche due consiglieri della quarta municipalità. Blocco di tutte le attività dei lavoratori di Eafbus, i 1270 dipendenti dell'azienda dichiarata fallita a novembre hanno incrociato le braccia, chiedono garanzie per il loro futuro occupazionale. Al bando indetto dalla curatela fallimentare è stata presentata una sola offerta da parte di un privato. Aggrediti con cinture e altri oggetti contundenti da una ventina di persone che esponevano simboli di estrema destra. A denunciare l'episodio sono i 9-9 posse, storica band nata nel centro sociale napoletano che ieri sera avrebbe dovuto esibirsi a Velletri. Il Chelsea mi chiamerà presto per Cavani, compreremo quattro giocatori, Zuniga non lo vendo neanche per 25 milioni e se il comune non mette a posto il San Paolo costruisco un nuovo stadio a Caserta in otto mesi. Ancora un De Laurentiis Show, il patron promette il primo acquisto entro una settimana. Buon pomeriggio, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Canale 8. Allora, ancora un atto di un'inchiesta che si protrae oramai da oltre due anni, quella sui falsi invalidi. Lo ricorderete, era partita dal quartiere Chiaia, poi sta cominciando a scandagliare le altre macro aree della città. È toccato appoggio reale, in realtà era già toccato circa sei mesi fa che si andasse ad aprire un fronte d'indagine su una serie di personaggi che percepivano da anni pensioni di invalidità pur essendo perfettamente sani. L'operazione ha avuto un epilogo piuttosto consistente questa mattina con un'ordinanza di custodia cautelare messa ai danni di 45 persone, ma ci sono anche nomi illustri. C'è un dipendente dell'ASL che viene indicato dai magistrati come regista dell'intera operazione, ma anche due dipendenti della quarta municipalità, quella che fa capo ai quartieri di Poggio Reale, San Lorenzo e Vicaria, che sono indagati al momento, ma che avrebbero fatto da collettori per gli atti necessari per erogare queste pensioni di invalidità. Il servizio di apertura di Nunzia Marciano. Un dipendente dell'ASL sanitaria locale, Napoli 1, arrestato assieme ad altre 44 persone e due consiglieri municipali di Poggio Reale indagati a piede libero. E' l'ennesimo capitolo della max inchiesta sui falsi invalidi che ha portato in manette centinaia di truffatori dell'Impesa da quattro anni a questa parte. Da quando cioè la procura di Napoli ha aperto il fascicolo su falsi ciechi che guidavano automobili e falsi paraplegici che giravano in bici, solo per fare qualche esempio. Insomma, tutta gente che stava bene, benissimo, ma che intascava la pensione di invalidità e qualche volta anche di accompagnamento erogata dall'Istituto Nazionale Pensionistico. L'indagine è frutto degli accertamenti coordinati dalla sezione reati contro la pubblica amministrazione della procura con un apposito pool che ha portato finora all'arresto di oltre 350 persone e al sequestro di beni mobili e immobili per circa 14 milioni di euro. Il blitz di oggi ha portato all'arresto di 45 persone con l'accusa appunto di riscuotere pensioni senza averne alcun diritto. La maggior parte di loro sono residenti nel quartiere di Poggio Reale. Ad effettuare gli arresti gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Bagnoli per effetto di un'ordinanza scattata all'alba di oggi. Le accuse sono dunque di truffa e falso per le pensioni ottenute grazie a documentazioni fasulle e false visite mediche. Ad alcuni degli arrestati i carabinieri hanno anche sequestrato beni mobili e immobili a garanzia del recupero delle somme percepite indebitamente. Secondo quanto emerso dalle indagini un ruolo di spicco sarebbe stato svolto dal dipendente sanitario arrestato. Sarebbe stato lui infatti il responsabile dei falsi decreti di invalidità. Per adesso sono solo indagati due consiglieri municipali ma in manette sono finiti alcuni loro parenti. Ancora cronaca i carabinieri del comando provinciale di Frosinone hanno smantellato questa mattina all'alba un'associazione per delinquere aggravata dall'uso delle armi finalizzata al traffico di cocaina e hashish tra Frosinone, Latina, Roma, Napoli e Caserta. L'operazione coordinata dalla Didia di Roma si è conclusa con 26 arresti, 14 in carcere, 12 ai domiciliari e 12 perquisizioni domiciliari. Quattro persone sono state arrestate sempre questa mattina tra la Sicilia e la Campania dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa nell'ambito di un'operazione disposta al termine di un'indagine che ha permesso di scoprire un giro di prostituzione e sfruttamento di donne sudamericane. Gli arresti con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ed esercizio di case di prostituzione sono stati compiuti a Vittoria, a Comiso, a Catania, a Paternò, nel Catanese e nella città di Napoli. Parliamo adesso di trasporti. La protesta era nell'aria, la guerra dura già da diverso tempo e l'avvertenza dei lavoratori Eafbus, oltre 270, che attendono di conoscere garanzie sul loro futuro occupazionale. La società, lo ricordiamo, è stata dichiarata fallita nel novembre scorso, si è arrivati con diverse proroghe fino ad oggi. Poi è scaduto il bando per cercare di assegnare a un'azienda l'intera società che fornisce servizio di trasporto pubblico su tutto il territorio del napoletano. Un'utenza incredibile. Ieri c'è stata una sola offerta da parte di un privato. I sindacati chiedevano un intervento pubblico. Questa mattina hanno incrociato le braccia a tutti gli autisti. Sentiamo. Blocco di tutte le attività dei lavoratori di Eafbus, azienda del trasporto su gomma del gruppo Eaf, holding della regione Campania. I 1270 dipendenti dell'azienda, di cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento lo scorso mese di novembre, hanno incrociato le braccia. Sono preoccupati per il loro futuro occupazionale. Ieri, infatti, allo scadere dei termini, al bando indetto dalla curatela fallimentare, è stata presentata una sola offerta da parte di un privato CLP. Stamattina, spiega Antonio Aiello della Will, aspettiamo una risposta da curatela. Ci faranno sapere se i creditori hanno accettato il piano. I lavoratori hanno fatto molti sacrifici, hanno avuto una riduzione degli stipendi, aggiunge ancora il sindacalista, e da parte della regione vi era stato l'impegno a lasciarla azienda pubblica. Nel primo pomeriggio, fa sapere ancora, sono stati convocati regione dall'assessore ai trasporti. L'Eafbus ha un bacino di utenza in tutta la regione di 2,2 milioni di abitanti. Mezzi fermi nei depositi e lavoratori in agitazione, dunque si profila un nuovo giorno di difficoltà per gli utenti che si servono delle linee dell'Eafbus. Al momento i pullman restano fermi in gran parte dei depositi in attesa di notizie. Secondo quanto riferiscono ancora fonti sindacali, al centro dell'incontro di oggi tra rappresentanti della regione e sindacati di categoria ci sarà la discussione delle proposte presentate per l'affidamento del servizio di trasporto su gomma, i cui termini sono scaduti ieri. La società di trasporti, va ricordato, è stata dichiarata fallita. Il bando di gara, come detto, prevede anche al termine del contratto, tuttora è in atto con il gruppo Eav, la cui scadenza è fissata al 30 giugno prossimo, si cambia in gestione. Non abbiamo potuto partecipare alla gara, dice Nellopolese, per colpa anche del mancato pareggio di bilancio. L'azienda ha posto in essere un piano di razionalizzazione che sul piano della riduzione dei costi del lavoro ha dato risultati straordinari, meno 20 milioni di euro rispetto al passato. Si è però prodotto un buco di 5 milioni, provocato da mancati introiti provenienti dai dirigenti e dalla riduzione del numero dei passeggeri. Da qui lo slittamento dell'agognato pareggio di bilancio. In ogni caso abbiamo garantito il servizio oltre ogni aspettativa, sottolinea Polese. Avevamo chiesto una proroga dei termini, offerto di prorogare la nostra gestione di Eavbus fino al 31 luglio, così da avere il tempo di continuare nel percorso di razionalizzazione che abbiamo avviato, cosa che però non è stata possibile e oggi scaduti termini è risultato una sola offerta da parte di CLP. La curatela ora, come da prassi, valuterà il piano, conclude ancora Polese e lo sottoporrà ai creditori prima di decidere. Quando si dice piove sul bagnato, i guai che non vengono da soli, insomma, che più ne metta ancora disagi, che si stanno verificando sull'isola di Ischia per il servizio di trasporto pubblico, sempre targato Eavbus. Numerose avarie agli automezzi sono rilevate dagli autisti che rientrano in massa in deposito interrompendo le corse. Solitamente per piccole anomalie agli automezzi, c'è sempre tolleranza da parte degli autisti, sottolineano alcuni operatori del settore, ma avendo appreso in questi giorni che l'Eavbus passerà di sicuro ad un privato, c'è incertezza e preoccupazione per il posto di lavoro e quindi ogni piccola anomalia non viene più tollerata dagli autisti che rientrano in deposito. Comunque la situazione sta già migliorando, avendo in questo momento, fanno sapere ancora i sindacati in una nota, una decina di autobus in circolazione su tutta l'isola. Parliamo adesso di rifiuti, perché? Perché si fa sempre più concreto e vicino il rischio che l'Italia debba pagare la famosa maximulta all'Unione Europea a causa della gestione dei rifiuti in Campania. Sentiamo. 20 giugno è questa la data del secondo deferimento dell'Italia alla Corte Europea di Giustizia per la gestione dei rifiuti in Campania, salvo colpi di scena dell'ultimo momento, come si apprende da fonti comunitarie. Il rischio per l'Italia è quello di incorrere in multe salate a causa della mancata applicazione della precedente condanna inflitta dalla Corte. Il 20 ci sarà l'esame periodico del pacchetto infrazioni da parte dell'esecutivo di Bruxelles, mentre continua l'impegno delle istituzioni nazionali e locali campane per evitare il rischio della multa per la procedura di infrazione. Lo scorso 24 di maggio la questione era stata al centro di un incontro tra il neoministro all'Ambiente Andrea Orlando e il commissario europeo responsabile per il settore, Janetz Potoknik. Al termine del colloquio Orlando aveva detto di avere argomenti e carte nuove da presentare in tempi brevi a Bruxelles per evitare il peggio. Il confronto tra Roma e Bruxelles sulla gestione dei rifiuti in Campania va avanti dal 2007, quando la Commissione europea aprì la prima procedura di infrazione che portò nel 2010 al primo deferimento alla Corte di Giustizia e alla successiva condanna per mancato rispetto delle norme comunitarie. L'avvio della seconda procedura risale al 2011. La Commissione contestò all'Italia di non aver fatto il necessario per ottemperare alla sentenza emessa dai giudici europei del Lussemburgo. Da allora ad oggi è stato un susseguirsi di incontri, avvertimenti e ultimatum. Il secondo deferimento del 20 giugno sarà molto probabilmente accompagnato dalla richiesta all'Italia di pagare le multe salate per tutto il periodo intercorso rispetto alla prima condanna e fino a quando non sarà stato fatto tutto il necessario per riportare la gestione dei rifiuti in Campania in linea con quanto stabilito dalle norme dell'Europa. Ancora rifiuti, un allarme ben più consistente di una multa, altro che bonifica. Per Giuliano ci vuole un sarcofago come Cernobil, lo dice il commissario regionale ai rifiuti. De Biase che va all'attacco alla bomba della Resit alle porte della popolosa cittadina del Napoletano. Non ci dormo la notte, dice. Lì dentro sono contenuti, pensate, dei veleni di tutta la nazione. Il servizio. Giuliano come Cernobil o forse addirittura peggio. Mario De Biase, 60 anni, salernitano, commissario per le bonifiche in Campania, non ha peli sulla lingua nel denunciare l'allarme ambiente nell'area metropolitana a nord di Napoli e in particolare nell'area giulianese. Assurda di recente, di nuovo alla ribalta della cronaca dopo l'atto d'accusa del Comitato Terra dei Fuochi e dei sacerdoti della Forania della terza città della Campania. Giuliano, insomma, come Cernobil o forse ancora peggio. De Biase punta all'indice e lancia accuse pesanti come Macigni. A partire dalla Resit è il peggio che ci sia in Campania. Lì sotto sono stati sversati, dice il commissario per le bonifiche, tutti i veleni d'Italia. Insomma, quello giulianese è un mostro, un incubo, una specie di cancro partorito negli anni dal patto mafia industria del nord. Un tumore ambientale ramificato su circa 60.000 metri quadrati fino a 30 metri sottoterra. Arsenico, cadmio, cromo, zinco, un intero laboratorio di chimica benefica. Come si farà ad impedire che continui a inquinare le falde che nel 2061, come recita la famigerata relazione Balestri, determini la catastrofe finale a Giuliano e nei paesi del circontario? O si spostano le migliaia di tonnellate di veleni o ci vorrebbe un sarcofago come quello di Cernobil, ma stavolta costruito a più di 30 metri sottoterra. Un'operazione teoricamente fattibile, ma che costerebbe come due finanziarie. Altro che i 61 milioni stanziati dalla regione per tutti i siti inquinanti. Per bonificare l'area vasta di Giuliano servirebbe insomma una specie di piano Marshall. Inoltre, non dimentichiamo, dice ancora De Biase, che attaccata alla Resit ci sono altre 5 discariche. Ma nonostante l'inquinamento dell'acqua per ridigare i campi, la frutta e gli ortaggi che si producono nella zona non risultano inquinati da agenti chimici. Ne ha certezza il commissario De Biase per aver commissionato lo scorso anno uno studio all'Istituto Superiore di Sanità. I risultati sono stati confortanti. Almeno un barlume di luce si vede. Il mandato commissariale di De Biase scade il prossimo 31 dicembre. Per quella data, lo 007 Salernitano spera proprio di poter lasciare l'ufficio con le ruspe che entrano nell'area Resit di Giuliano e in quelle delle altre 5 adiacenti per iniziare definitivamente i lavori di messa in sicurezza e di stabilizzazione. Finita la fase di studio, la legge poi obbliga a indire la gara europea per la scelta di imprese qualificate. Ma questo richiede del tempo. 25 immobili sequestrati per un valore di quasi 6 milioni e mezzo di euro con l'emissione di 6 avvisi di garanzia. Il bilancio di un'operazione effettuata oggi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di una società immobiliare di Torre del Greco la CPN secondo gli inquirenti in qualche modo riconducibile alla De Iunemar compagnia di navigazione il gruppo armatoriale fallito lo scorso anno nel quale quasi 13 mila persone hanno investito oltre 720 milioni di euro infatti tra le persone raggiunte da avviso di garanzia ci sono anche i tre fratelli Pasquale Angelo e Micaela della Gatta già a processo per il crack dei Unemar ritenuti dagli inquirenti amministratori di fatto della CPN avviso di conclusione indagine anche per Giuseppe Granata 75 anni liquidatore rappresentante legale di CPN il rappresentante legale fino al 2007 è considerato rappresentante di fatto Walter Nigro e Francesco Ascione l'indagine secondo quanto sottolinea la Procura di Torre Annunziata ha preso il via da due segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di scoprire che la CPN era infatti schermata con l'ausilio di società fiduciarie e società di diritto estero in particolare sempre secondo gli inquirenti il 99% della CPN sarebbe stata detenuta da OBS fiduciaria SPA il sequestro per equivalente ha riguardato 18 immobili a Torre del Greco una a Capri e 6 a Pesco Pagano provincia dell'Aquila la Costituzione dice che chi ha funzioni pubbliche le deve adempiere con disciplina e onore lo ha detto Stefano Rodotà a Napoli dove questa mattina ha tenuto una lezione alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II in occasione di un convegno sull'etica Rodotà ha sottolineato come questo principio valga per tutti e ha aggiunto un precetto trasversale e purtroppo devo dire che non sempre questo accade Rodotà che è stato candidato lo ricordiamo alla Presidenza della Repubblica che da anni si occupa di diritti è evidenziato come il problema dell'etica pubblica e della ricostruzione di una coscienza civile è fondamentale in ogni paese indipendentemente a concluso da quelli che possono essere gli orientamenti di ciascuno di noi e dopo le polemiche all'indomani del concerto in piazza del Piemiscito di Bruce Springsteen proprio sullo slargo più importante di Napoli è pace fatta tra il comune e la sorrintendenza il tutto dopo un incontro che si è tenuto ieri in prefettura Palazzo Reale il colonnato e la basilica sono queste le aree di piazza plebiscito che saranno interessate dai lavori di restauro per Palazzo Reale il progetto è quello della soprintendenza il resto è ad appannaggio del provveditorato alle opere pubbliche il tutto finanziato con 6 milioni di euro del fondo Cipe a cui il comune di Napoli aggiungerà i fondi UNESCO per il centro storico entro le prossime quattro settimane si avrà un quadro completo delle opere da effettuare e dopodiché potranno partire i bandi di gara per l'assegnazione degli appalti se non ci saranno ricorsi fanno sapere dalla soprintendenza le opere di restauro potrebbero iniziare già al prossimo autunno e terminare entro due anni tra gli interventi si prevede anche la resa di agibilità dei locali del colonnato e la chiusura soft di quest'ultimo che non impedisca però la vista della chiesa insomma su plebiscito pare pace fatta dopo settimane di polemiche sull'utilizzo della prestigiosa piazza storica a scatenare la diatriba tra comune e soprintendenza era stato il concerto di Bruce Priesting dello scorso 23 di maggio quando la piazza era stata letteralmente blindata e concessa praticamente gratis agli organizzatori dell'evento portando il soprintendente Giorgio Cozzolino a decidere che la piazza non potrà più essere chiusa se non per 12.000 posti al massimo la replica era arrivata direttamente dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris che aveva invece affermato che la piazza sarebbe stata ancora usata e resa fluibile per i grandi eventi a mettere la parola fine allo scontro ci ha pensato il prefetto di Napoli Francesco Musolini che ha stabilito l'avvio del progetto di restauro il Movimento 5 Stelle del Senato che aveva presentato un'interrogazione sulla incompatibilità di Del Rio Zanonato e Enzo De Luca torna alla carica con una nuova interrogazione che riguarda stavolta soltanto il sindaco di Salerno primo firmatario Andrea Cioffi l'oramai ex sindaco di Reggio Emilia si legge il neoministro Graziano Del Rio è decaduto ufficialmente nel Consiglio Comunale di lunedì con grande soddisfazione il voto favorevole del Movimento 5 Stelle lo stesso ha fatto Flavio Zanonato oramai ex sindaco di Padova ma ne rimane uno inossidabile si tratta del vice ministro alle infrastrutture sindaco incompatibile di Salerno Vincenzo De Luca si spiega ai parlamentari del Movimento 5 Stelle fanno notare che il PDL sta facendo milina per salvare il sindaco del PD e non far scoppiare il caso in realtà osservano i senatori del Movimento 5 Stelle ci sono già tutti gli ingredienti per applicare il rispetto della legge già un mese fa l'intero gruppo parlamentare al Senato prima firmataria Maria Mussini aveva presentato un'interrogazione al governo Letta segnalando tutte le posizioni incompatibili compresa quella di De Luca De Luca Letta sa benissimo dell'incompatibilità e non dice nulla si legge ancora nella nota del Movimento 5 Stelle eppure la legge è chiara De Luca deve optare per una delle due cariche sindaco o vice ministro Ischia penisola sorrentina litorale domizio golfo di policastro sono queste le prime quattro aree turistiche della campagna a diventare distretti turistici gli obiettivi sono rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale internazionale a crescere lo sviluppo delle aree dei settori del distretto migliorare l'efficienza nell'organizzazione nella produzione dei servizi assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese il progetto è stato illustrato dall'assessore regionale al turismo Pasquale Sommese sul turismo la regione Campania vuole voltare pagine e vuole farlo al più presto è stato questo in sintesi la falsariga ideale della conferenza stampa del neoassessore al turismo Pasquale Sommese qui a Palazzo Santa Lucia a Napoli bisogna fare meglio per quanto concerne il turismo ha detto Sommese la regione Campania è una sorta di museo a cielo aperto di qui una serie di iniziative che il neoassessore ha spiegato nel corso della conferenza stampa io credo che la grande bellezza sia la Campania con le sue coste e ricordiamo un dato che gli uomini di cultura i grandi della terra hanno sempre affermato che non si è visto il mondo se non si riesce a vivere la nostra costa a partire dalla Baia Domizia dal Domiziano con la regge di Carditello la regge di Caserta a finire col golfo di Policastro la rivoluzione parte proprio da questi distretti turistici i distretti turistici sono una forma essenziale per organizzare le nostre coste ma poi dobbiamo lavorare all'integrazione tra le aree interne e le zone costiere oggi è il primo punto di una politica integrata di una politica che parte dal basso dal partenariato locale avendo la regione Campania un piano territoriale i sistemi territoriali di sviluppo politica coerente così come la Commissione europea sta chiedendo agli Stati membri la finalità è il turismo l'obiettivo finale ma il turismo è chiaro e evidente che le precondizioni a poter realizzare l'obiettivo sono almeno cinque così come vengono identificate negli studi di fattibilità che hanno poi consentito la perimetrazione delle coste e che sono chiaramente i beni culturali la cultura dell'accoglienza queste straordinarie coste e bellezze che noi abbiamo ma sono elementi essenziali per la sicurezza turistica la mobilità questi elementi devono concorrere ecco perché una politica inclusiva una politica integrata per poter poi avviare non solo il turismo balneare ma le altre componenti che incidono nella stagionalità un lido e alcuni chioschi bar sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Pozzuoli a Licola nell'ambito di un'operazione diretta dal tenente di Vascello Andrea Pellegrino su tutto il territorio flegreo i controlli hanno riguardato la renile libero in località Licola in vista della stagione balneare e per garantire anche la pubblica e privata incolumità sono stati riscontrati la irregolare presenza di manufatti in cemento armato realizzati su demanio marittimo nonché chioschi bar privi della preventiva licenza e autorizzazione le opere sono state sottoposte a sequestro e affidate in custodia all'amministrazione comunale il crack della banca del meridione il processo è stato trasferito a Roma vediamo perché passa a Roma l'inchiesta su Raffaele Cacciapuoti il fondatore della banca popolare del meridione accusato di aver fatto sparire quasi 8 milioni di euro raccolti dai soci sottoscrittori i giudici della settima sezione penale del tribunale di Napoli presidente De Stefano hanno infatti accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli avvocati Bartolo senatore e Giovanni Polito difensori di Cacciapuoti alla quale si sono associati anche gli altri difensori i legali hanno evidenziato la necessità di trasmettere gli atti a Roma perché tra le parti offese c'è un giudice onorario che ha lavorato a Napoli sul banco degli imputati oltre a Cacciapuoti ci sono anche il notaio Paolo Morelli l'imprenditore Vincenzo Ioime Livio Pellegrino viaggio di guida Cacciapuoti è libero per decorrenza termini già da parecchio tempo le parti civili sono circa una settantina con il trasferimento del fascicolo a Roma la prescrizione dei reati si fa più vicina dal momento che il procedimento dovrà ripartire dalla fase delle indagini preliminari due uomini sono rimasti feriti nel pomeriggio di ieri da colpi di arma da fuoco nei pressi del cimitero di Mondragone secondo quanto accertato dai carabinieri il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili motivi tra le vittime e altre persone ancora ricercate due uomini feriti all'addome e alle gambe sono stati condotti alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno e nell'ospedale di Sessa Aurunca aggrediti con cinture e altri oggetti contundenti da una ventina di persone che esponevano simboli di estrema destra a denunciare l'episodio sono i componenti della storica band cresciuta nei centri sociali di Napoli in 9-9 posse non hanno dubbi erano fascisti comunque componenti di gruppi di una destra estrema a voler interpretare la descrizione di simboli e colori portati indosso la sbastica un effigie da parà colori rigorosamente neri li hanno aggrediti con cinture e altri oggetti contundenti erano una ventina forse qualcosa in più e oltre che per ciò che indossavano li hanno descritti come degli invasati picchiavano e urlavano vittime dell'aggressione i 9-9 posse la storica band nata e foggiatasi nei centri sociali di Napoli avrebbero dovuto esibirsi a Belletri vicino Roma tutto saltato però il brutto episodio intorno alle 22.30 di ieri secondo quanto denunciano il cantante Luca Persico in arte Zulu e un fonico della band nei pressi del luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere l'evento sono stati circondati da un gruppo di una ventina di persone molti dei quali coi volti coperti da bandana che hanno cominciato a picchiarli con cinghie e borchie cantante e tecnico se la sono cavata soltanto grazie all'intervento di agenti della sicurezza del locale che sono riusciti a mettere in fuga gli aggressori i due avrebbero riportato contusioni tagli e abrasioni superficiali ma hanno rifiutato di essere portati in ospedale e non hanno sporto denuncia sul profilo ufficiale il leader della gang mostra in queste immagini le ferite riportate nel messaggio oltre a un loquace gesto rivolto ai suoi aggressori e poi le scuse al pubblico per non aver potuto suonare sottolineando che si tratta di un fatto grave che si inserisce in una sempre più preoccupante recrudescenza dell'estremismo fascista in Italia e in Europa nella notte dello stesso 5 giugno si legge nella nota una Molotov è stata lanciata contro il portone del centro sociale Astra 19 nel cuore del Tuffello a Roma al piano terra di una casa popolare abitata da decine di persone anche in questo caso chiosa il comunicato della band Chiara la matrice fascista nel clima avvelenato della campagna elettorale per le comunali a Roma tre pezzi forti portati in giro negli ultimi anni i nove nove posse ne hanno uno intitolato rigurgito antifascista sono sei nuovi mezzi elettrici che andranno ad aumentare il parco veicoli del comune di Napoli a beneficiarne sarà il servizio gestione e manutenzione dei parchi urbani che domani li ritirerà nel corso del secondo appuntamento del Bike Energy Day l'appuntamento in via Parteno per l'altezza di Piazza Vittoria per la grande esposizione di bici e prodotti per il risparmio energetico nell'ambito del progetto europeo Transport Learning parliamo ancora di musica parte oggi da Ancona per il Backup Tour 2013 atteso negli stati di 12 città italiane e Lorenzo Giovanotti il prossimo 2 luglio sarà la volta dell'unica tappa campana ovvero lo stadio Arechi di Salerno partirà il prossimo 7 di giugno da Ancona il Backup Tour 2013 di Giovanotti atteso negli stadi di 12 città italiane il 2 luglio si esibirà nella sua unica tappa in campania allo stadio Arechi di Salerno una mega produzione live che coinvolge musicisti videomakers scenografi costumisti e creativi e che si annuncia già come l'evento live dell'estate italiana uno spettacolo fatto di energia ritmo tecnologia allegria e divertimento con oltre due ore di concerto che attinge a piene mani al recente Backup Lorenzo 1987-2012 album antologico che raccoglie 25 anni di carriera attraverso hit e inediti rarità e remix nato a Roma il 27 settembre del 1966 ma originario di Cortona Lorenzo Cherubini in arte giovanotti è stato scoperto da Claudio Cecchetto e lanciato da Radio DJ dopo varie collaborazioni nel 1988 pubblica il primo singolo E qui la festa seguito dall'album d'esordio giovanotti for president da allora è stata tutta un'ascesa la sua carriera grazie a lavori come una tribù che balla Lorenzo 1992 e 1994 l'albero capo horn e diventa così uno degli artisti italiani più amati negli anni 90 E tutto con la prima parte del TG ci ritroviamo tra pochissimo per parlare di calcio Aspetto il Chelsea per Cavani poi se il Comune non ristrutturerà il San Paolo al più presto ne farò uno nuovo farò uno stadio nuovo lo farò però a Caserta tra provocazione e calcio mercato e il solito dell'Aurentis Show vediamo Sia Geco no a Mascherano Zuniga non va all'Inter su Cavani c'è il Chelsea ma i tifosi stiano tranquilli perché i 63 milioni saranno subito reinvestiti nel mercato De Laurentis ha fatto il punto sul mercato del Napoli il presidente Azzurro ha partecipato da Los Angeles a un forum parlando delle trattative in corso e confermandone diverse tra cui quelle per Cerci e Fellaini sono due bravi giocatori ha detto con caratteristiche diverse con due valutazioni diverse ruoli diversi poi ha rivelato di aver tentato di strappare la mela e Marchignos alla Roma li ho trattati ha detto direttamente con Unicredit ho offerto 40 milioni per entrambi ho chiamato direttamente Ghizzoni la D di Unicredit dicendogli che metto a disposizione 40 milioni ma questo avveniva prima della firma di Benitez pensavo che avrei fatto un buon affare con due giovani poi però mi sono chiesto se valgono davvero questa cifra il mercato in pieno fermento con Cavani che si allontana dal San Paolo e Geco che potrebbe sostituirlo in più con i 63 milioni del Matador De Laurentiis prenderebbe almeno un difensore una seconda punta per il 4-3-2-1 di Benitez e un centrocampista a breve a breve dovrebbe arrivare la chiamata del Chelsea ha confermato i bookmakers quotano la sua partenza allora gioco 500 milioni dice il patron quando so che sta per firmare così facciamo un grande mercato la rosa del prossimo anno sarà di 20 elementi di prima classe tre portieri e due giovani da far crescere sul mercato le prime mosse riguardano la sostituzione di Campagnaro poi abbiamo bisogno di un centrocampista e una seconda punta da mettere sulla destra insieme al nostro Pandev questo è un discorso che si sta concretizzando in questi giorni stiamo cercando anche un portiere secondo portiere bravo e giovane rivela il presidente del club azzurro l'attesa sarà breve perché De Laurenti si afferma che il primo acquisto arriverà in non meno di una settimana prima della presentazione di Benitez prevista il 21 a Castelvolturno il presidente ha parlato anche del San Paolo se non me lo fanno comprare ne costruisco uno a Caserta in otto mesi ha detto ed è l'intenzione di comprare un club inglese per ripetere il percorso del Napoli ne vorrei uno di serie bassa a Londra per poi salire allargando anche lo sguardo entro sei anni voglio squadre in Brasile e Stati Uniti il patron ha parlato della città lamentando le pastoie burocratiche minacciando di lasciare l'Italia come ha già fatto la maggioranza delle persone per bene ultimo pensiero che va a Mazzarri gli ho dato molto ma sapevo che andava via bene è tutto con Otto News ci ritroviamo puntuali stasera come sempre alle 19.30 non mancate buon pomeriggio grazie a tutti